Una struttura di eccellenza nazionale per ricoverare pazienti affetti da gravi patologie altamente infettive. Sarà questo in sostanza il futuro dell'unità ad alto livello di isolamento che verrà realizzata all'interno del San Matteo di Pavia. Un progetto annunciato già lo scorso anno che nei prossimi mesi diventerà realtà. Grazie a un contributo da 4,3 milioni di euro da parte di Eni, il Policlinico potrà realizzare un reparto con 16 stanze singole dotate di un sistema di ventilazione a pressione negativa in grado di impedire la diffusione dei patogeni verso l'esterno. L'unità ad alto livello di isolamento sorgerà al terzo piano del padiglione delle malattie infettive, spiega il direttore generale Carlo Nicora. Progettualità nata dal Covid, siamo alla fine del mese di maggio, grandi benefattori, un gruppo di grandi benefattori si presentano al San Matteo e chiedono di poter donare come anche i piccoli benefattori. Tra questi Eni e ci propone, come ci suggerisce, di essere una delle tre strutture a livello nazionale scelte, lo Spallanzani di Roma, il Sacco di Milano e il San Matteo di Pavia. Un po' il ruolo che avevamo avuto nei primi mesi di ribalta e anche di grande contributo che abbiamo dato come ospedale nella ricerca. E da lì ci è venuta l'idea di chiedere a Eni di impegnarsi a ristrutturare l'ultimo piano del padiglione delle malattie infettive realizzando una struttura di alto isolamento, quindi con la capacità di ricevere pazienti gravi sia per loro, cioè per la possibilità di infettare altre persone, ma sia per gli operatori, cioè per la possibilità di essere protetti con un alto isolamento, l'investimento è di 4 milioni e 300 mila euro, quindi un grandissimo grazie a Eni per questo tipo di progetto e di capacità di sostenerci. 4 delle 16 stanze saranno attrezzate come una terapia subintensiva, con la capacità di sostenere i parametri vitali di un paziente critico. La struttura potrà fornire quindi un'assistenza medica ottimale a pazienti affetti da patologie altamente contagiose come il Covid-19, ma anche nel caso di virus come l'Ebola. Nel padiglione delle malattie infettive verrà poi spostato anche il laboratorio di virologia molecolare, permettendo così al San Matteo di avere in un unico edificio l'intera filiera per affrontare le emergenze infettive. È un chiave in mano, inizieremo probabilmente dal mese di aprile, i lavori inizieranno, dureranno 6-8 mesi e quindi speriamo che entro la fine dell'anno di avere pronto il terzo piano e avremo una struttura all'avanguardia che può farci competere a livello sicuramente europeo. Questo è importante per la città di Pavia, è importante per la Lombardia, ma è importante per il territorio nazionale perché diventeremo punto di riferimento per alcune di quelle patologie molto gravi, molto pericolose, che hanno fatto paura, tipo l'Ebola, avendo a questo punto una struttura più unica che rara a livello del territorio nazionale.